Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme la pizza. Usiamo 500 grammi di farina per la pizza. Mettiamo 10 grammi di lievito di birra. E un cucchiaino di zucchero. E mettiamo 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Mettiamo l'acqua. 400 ml di acqua. Mettiamo. Aggiungiamo 11 grammi di sale Ho finito di impastare, l'impasto deve essere mole così Mettiamo la pellicola sopra e lo lasciamo riposare per un'oretta Giriamo il pasto Mettiamo la pellicola sopra E lo mettiamo nel frigorifero per tutta la notte Tiriamo via l'impasto per la pizza dopo 15 ore che è stato nel frigorifero Mettiamo farina Dividiamo l'impasto A metà Ho formato due panetti e adesso li lascio riposare per un'altra oretta Ricopriamo Ratuccio 250 grammi di mozzarella per la pizza 300 grammi di passata di pomodoro Giungiamo un po' di sale Due cucchiai di olio E un po' di origano E un po' di origano A metà Grazie a tutti. Vediamo la pizza fuori dopo 5 minuti. Vediamo la pizza fuori dopo 5 minuti. Prepariamo la seconda pizza. Metiamo un po' di olio. Musica E adesso mettiamo la pizza nel forno per 5 minuti, forno al massimo. Musica Dopo 5 minuti tiriamo via la teglia con la pizza. Musica Mettiamo la mozzarella. Musica Mettiamo un uovo. Musica Musica Taliamo la pizza. Musica 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 Assagiamo la pizza. Musica 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 Musica